Cari amici, bentornati, bentornati Il nostro grandissimo podcast Che ritorna da capo senza Wifi Ovviamente come abbiamo già detto la settimana scorsa Quindi senza Wifi Quindi abbiamo guadagnato in qualità Con noi c'è come sempre Van Ciao Van Come sempre, come la settimana scorsa anche Axel Salve È un nome impronunciabile, cambialo No Ma facciamo una cosa Scrivete in commenti un soprannome Quello che mi piace di più lo cambiamo Ti metteranno 3000X Come nel nome tipo XX420 Sniper lord No, arriveranno i nomi più brutti, merda Cacca, pupù, scemo, stronzo Coniglio stitico Ci sto No, coniglio stitico Ragazzi, coniglio stitico Mi piace A me piace Allora direi di cominciare subito con le notizie Che ne abbiamo, vabbè, non tantissime Però insomma, meglio cominciare Dunque, come sapete Peter Molyneux ha abbandonato Lionhead Circa due settimane fa Poco tempo fa comunque Lionhead infatti erano tutti tristi E hanno deciso di mettersi al lavoro Su un altro RPG online Che ne abbiamo parlato la settimana scorsa Come se non ne bastavano già altri Sì, esatto Un altro RPG online Che uscirà sulla prossima Xbox Che si chiamerà Caramella E... Lo so come cosa ne pensate Best name ever A parte Caramella Dico, come cosa ne pensate Di Lionhead che non ho mai fatto niente di buono nella vita Vabbè Cos'altro hanno fatto? Tipo Fable Eh, ultimamente Negli ultimi sei anni Hanno fatto Fable E basta E allora Faranno un'altra minchia Dalla Fable Che overrai per anno A bestia E poi non cambiamo Fable 2 Quello lì era il molinello Lui arrivava e diceva Eh, che ti devo dire Fable 2 Se dai una spinta a uno Fa un volo realistico Giù dalle scale Poi dopo non potevi neanche darle spinta Eh, purtroppo va così Praticamente loro Loro guadagnano soltanto per il nome Ma non effettivamente per se i giochi sono belli o no Perché non sono belli Poi oltre non l'ho neanche comprato E allora Io non ho comprato nel primo, nel due, nel tre Non ho comprato un cazzo E fai bene Fai 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 bene Adesso tu li vai a comprare tutti? No No Ci giochi tu da solo No, no, io li guardo Eh Boh, quindi io direi Aspettative per questo RPG online Bassi, bassi Molto bassi Considerando tutte le esperienze passate dalla stessa casa Mi trovi avrei i fatti Che alla fine poi non ne frega nessuno E basta, finisce lì E se fosse un free to play per i gold, per esempio Minchiata Perché? Minchiata comunque perché Il problema è che sta su console Eh, voglio vedere esatto Voglio vedere come lo adattano Però posso mi sapere se Allora tutto sul Kinect se va bene Ancora più merda Sì Infatti No, devi ballare Insieme ad altre persone Io ce lo vedo Che devi ballare Tutti insieme Ma che vergogna Cioè farli così Non fanno prima Farlo sul PC In modo più libero Più interattivo No, ma Cazzo Non ne so Io di interattività sono l'ultimo In tendermene quindi Sì ma Cioè I soldi Cioè i soldi li prendono Sti Stai gente Cioè Cioè i giochi alla fine Per fare giochi di merda Di continuo Di continuo Di continuo Dire che c'è sempre Il cretino che se li compra Il cretino Però c'è anche Si chiama massa Il problema Il problema è La cosa brutta È bruttissima Non va bene E così li stighiamo A fare ancora altri giochi Più di merda Dice Che bello Il ciò che ha venduto Buttala lì Un numero Un milione di copie E ora ne facciamo l'altra Ma credo Credo che Credo che Il 3 Non ci sia arrivato Il milione Già Non ci è arrivato Io penso Non ci sia arrivato Non manco Al pidello Al pidello Della casa produttrice Secondo me Non ha comprato Neanche Gli sviluppatori Perché ci sono guardati In questione difficile purtroppo Ragazzi abbiamo fatto Un gioco di merda Sempre con la maribou Va bene Quindi aspettative Bassissime per tutti Abbiamo fatto una stronzata Ragazzi Basta proviamo un altro Facciamo un altro RPG Tanto non ce ne sono già tante Abbiamo analizzato noi La scorsa puntata Ce ne erano 28 Siamo noi esperti Nel campo Ce ne intendiamo più di voi Non capito un cazzo Anche se fate giochi migliori di noi Siamo comunque noi migliori Sì infatti Number one In the Universe Ma sì Rabba tutta over ipad Che non Fottiamo Lionhead Grazie per Avere scelto Questa strada Thank you Thank you Based God Noi aspetteremo Trepidamente Io almeno Aspetterò trepidamente L'uscita Per poterti sfottere Con nuovi argomenti Grazie Lionhead Cioè Almeno Grazie alle casse produttrici stupide Riusciamo a riconoscere quelle buone Almeno per questo Certo La percentuale è in continuo calo Sì infatti Non ci sono più dei giochi di una volta Dunque passiamo alla prossima Mario Kart 7 È stato patchato Dopo solo i sei mesi Che c'era bisogno di questa patch La Nintendo ha trovato un modo Per fare questa patch Che tra l'altro Credo sia la prima patch assoluta La prima Bellissimo Credo sia la prima Allora L'applauso perché ci hanno messo solo sei mesi Voglio dire La domanda Allora Esaminiamo la situazione Perché ci voleva questa patch? Che problemi aveva il gioco? Voleva questa patch perché C'erano le scorciatoie Diciamo non autorizzate I bug Cioè all'improvviso Davi dritto verso il muro Ti ritrovavi avanti Credo che non ci ho giocato Vabbè L'altro positivo è che Voi ragazzi Che vi divertite A guidare macchinette Che lanciano banane Eccetera eccetera Finalmente potete sapere Che È stato proprio Gai Sì Sì Cioè Io ci ciò Come lo Lanciare banane È una cosa bruttissima Non ci può guardare Però È stato sempre Il problema è che tipo loro Quando hanno riuscito il gioco La gente si accorta Che c'era il bug Tra l'altro Probabilmente Il primo gioco della Nintendo Con dei bug così grave Forse il primo Con dei bug in assoluto Da parecchio tempo Questa parte E la gente La gente ha detto Ma stronzi di merda Rilasciate una patch E l'hanno detto Nella nostra politica E poi dopo invece Si vede che la richiesta O è stata alta La richiesta Oppure Oppure In realtà C'è Teoricamente Noi ci vorrebbe Nintendo per sei mesi Per rilasciare una patch Di un gioco Sviluppato da loro Perché non hanno problemi Teoricamente Non hanno problemi Né con le licenze Né con la casa sviluppatrice Né con la casa pubblicatrice Né con qualcuno Di superiore Esempio potrebbe essere Stata Microsoft O Sony Alla quale devono chiedere Autorizzazione E avere un'approvazione C'erano problemi C'erano problemi Con il 3DS Perché non era predisposto Sì ma è uscito Troppo subito Cioè è uscito 3DS Pam Mario Kart 7 Beh Deveva essere Non manco controllato Il 3DS Non era predisposto Ad accogliere patch Cioè non era previsto Io so che si fanno le beta Si fanno prima le beta Si controllano Se ci sono errori E poi si buttano sul mercato No che si fa così Alla cazzo Te va Non è che è stato Un problema Alla cazzo Probabilmente Diciamo Non si è stata abbastata Io non capisco Perché loro comunque Non l'abbiano previsto Come cosa Nella progettazione Della console Cioè fino all'ultimo Aggiornamento Non era possibile Rilasciare il patch 3DS Adesso si Adesso si Però prima non era previsto Cioè per un anno e mezzo Più o meno Però da quando è uscito Fino a Pochi mesi fa Poche settimane fa Anzi un mesetto e mezzo fa Al massimo Non era previsto Non era possibile Rilasciare il patch Beh in questo caso Direi che È un cambiamento Già Ah ma ho capito Che sono dei coglioni Vabbè però almeno Abbiamo Sappiamo che Se si troverà Un altro problema In altri giochi Nintendo Si potrà finalmente Pacciare Perché saranno fatto Con un Mario Kart Lo parlando con altri giochi Che magari avevano problemi Si Mi ricordo La cosa più bella del mondo Mi sembra Need for Speed for Street Quando la versione 360 Ti faceva Provare ad accedere Al Playstation Net Bellissimo Una settimana Ma è stato così La gente provava ad accedere Faceva ad accedere Al Playstation Network Ovviamente gli dava errore E tu non giocavi Perché L'avevano deciso così Qualcosa Probabilmente Il bug più bello del mondo C'è chi ha c'è L'Xbox Lite A c'è la PSN Io Mi inchino Ho tale maestria E state qui Vuol dire Beta testing Noi non lo facciamo Sì Fuck beta testing Qualcos'altro da dire Su Mario Kart Nintendo patch Ma L'hanno patchato Se non ha più problemi Tutti contenti Ragazzi Ragazzi prendetelo Compratelo Perché Mario Kart È sempre Mario Kart No Comprate un 3DS Piuttosto Vabbè sì Comprate prima un 3DS O magari Magari Compratevi un emulatore Perché 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 dobbiamo dare questi consigli Sbagliati ai bambini Rubatelo Scusa Ecco È giusto Anzi meglio ancora Minacciate vostra madre Con una Con una calibro 44 Dice Ma voglio Mario Kart 7 Con l'intendo 3DS Eh voglio dire Diamo una mano alla criminalità Facciamo l'onestà prevale Sì Basta Questo perpenismo Degli stracoglioni Vai Tutti cattivi Dunque Rubate le console E piratate i giochi Ecco Metal Gear Metal Gear Rising Revenge Ma che cazzo di nome Gli hanno messo È previsto In demo Giocabile Alle 3 Quindi tra un mese Yes Finalmente 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 Voglio dire Il gioco era Previsto Due anni fa Più o meno Anche questo Stile Final Fantasy Versus Beh purtroppo Qui Metal Gear Rising Ha avuto un destino Molto crudele Di fronte a sé Sì Più che altro Continuate voi a parlare È cambiato È cambiato sviluppatore Per fortuna Ora sono quelli di Bayonetta Sì Platinum Games Platinum Games Esatto Prima stavano sviluppando duro Direttamente Bambini Non Non ascoltare Io mi aspetto Da questa scelta Sì È stata una scelta Proprio magnifica Non potevano fare di meglio No Fondamentalmente Prima era in mano Al team Kojima Credo Sì Che non sapeva Ok Ci era tipo Tagli di precisione Cose Blablabla Adesso no Adesso è tornato in vita È una nuova veste Nuova carne Non sapeva cosa Mingha stava dicendo Ricordiamoci La grandissima Presentazione Con il rumino Che tagliava le cocomere Quindi Sì Tutti pensavano Che fosse divertente Quando non lo era No Era un gioco Simulatore di frutti Vendolo Sì sì Era Cookie Mama In versione diversa Cookie Mama Cookie Mama Di Kojima Sì sì Vai De Kojima Ok Sei ore di filmati Cioè Se pensavi che Cookie Mama Non fosse famoso Ecco che Kojima Prende in prestito La sua idea Diventa Una rivoluzione Del mondo videoludico Cioè Cookie Mama By Kojima Tra una ricetta e l'altra Sei ore di filmati Cioè Cookie Mama By Kojima Sarebbe La figata del secolo Che Day one Day one Finalmente Voi Voi Noi Spippettoni Di Bayonetta Finalmente potremmo vedere Bayonetta in cucina In cucina Donna Anche Nel caso Sì ma Visto che era sviluppato La Konami Bayonetta Lì non c'entrava la sega Adesso Il gioco è passato A mano di Plateon Games E quindi Si spera di più In azione E Si spera di più Un incremento di qualità Salute Salute Tra i due video Tra i due video Cioè Quando sono passati Quando il progetto è passato di mano C'è stato un downgrade grafico Abbastanza evidente Però Si vedeva il gioco dopo Cioè vuol dire Nel primo Prima quando ero in mano a A Konami Si vedeva solo Eh Cioè praticamente Konami Vuole per forza sbatterci Una storia stralunga Piene di cazzi Blablabla Praticamente Lo stile di Kojima Lo conoscete Tre quarti d'ora Di Scena di intermezzo E un quarto d'ora Di gameplay Invece Completo di un game Si spera nel contrario Cioè io sono contentissimo Di sta cosa È proprio Già il titolo Revengeance Sta proprio Mi sa proprio di C'è proprio un sapore Differente Stupendo Va bene Abbiamo qualcos'altro Da aggiungere Niente Visto che Purtroppo Non sono Diciamo Cioè non ne so molto Devi aver provato Baionetta Praticamente Per capire Su chi Praticamente Chi ha messo in mano A Metal Gear Rising E con tutte e due Le mani sul controllo Oh sì No Fortunatamente Quello che giocava Baionetta Non ero io Stavo Di tutto Di bambino Sperresti dire Sfortunatamente Perché Non giocarsi Baionetta È come togliersi Togliersi Un Come si dice È come togliersi La propria cittadinanza Come togliersi La propria La propria umanità Per due tette Come perdere Il marrone destro Secondo te Sono quelle che Contano in baionetta Vaffanculo È tutta Un'altra cosa Vabbè Per il gioco Sì L'ho visto È bellissimo Sì Lei di più Però Ma Cioè È proprio Non posso dirle Personalmente È stato proprio Il gioco del 2010 Qualcosa di Magnifico Magnifico È ancora Sono nel 2012 Io ancora Ci sto ancora giocando Perché Non puoi smettere Una volta che Sai come giocare Non riesci a smettere più Una volta Spero che Spero che Con Rising Sia la stessa cosa Perché E Platinum Spero di no Perché i miei soldi A Konami Non glieli voglio dare Spero di sì Perché i miei soldi A Platinum Li voglio dare Invece Eh ma Platinum Li ha già presi Da Konami Dopo se tu Copri il gioco Dai soldi a Konami Ma Konami Non li voglio dare Piuttosto prendiamo Anarchy Reigns No Prendiamo Anarchy Reigns Quando esce Li diamo solo a Platinum Praticamente Esatto Dunque Parliamo un pochino Della Playstation Vita Che sta Battendo Ogni record Di vendita Negativo In Giappone Ha battuto il Commodore 64 In vendite Ma forse Forse il Commodore 64 Anche adesso Vende un pochino Di più di PS Vita Sì infatti Io ce l'ho giù Dunque E' stato annunciato Sony Si è accorto Deve essere con le pezze al culo Con questa console portatile Se ne accorta Ci sta pensando Dice ma forse Non è andata Secondo piano Sta controllando Ma quante ne abbiamo fatte Di console Eh 5 milioni Quante ne abbiamo vendute Boh 600 mila Beh dai Boh Ha annunciato Questo evento Dedicato alla PS Vita Che si chiama Vita Heaven In cui si spera Che annunci Grandi annunci Diciamo Ci si aspetta Se non altro Grandi annunci Di giochi per la console E infatti Proprio in concomitanza Con questo annuncio Che Eva ha cancellato Due giochi per la PS Vita C'è così Evento Magnifico Boom Cancelliamo due giochi Si Più o meno La questione è questa Il nome dice tutto Vita Heaven Nel senso Che la PS Vita Tra un po' Morirà Nel paradiso Delle console Dimenticate Annuncio Non ritiro Non ritiro Riposo in pace Dolce principio Che prince In paradiso Io immagino Di questo evento Non sappiamo niente Quindi Possiamo Praticamente parlare Di quello Che appunto Succede Di conseguenza Ovvero Cave ha cancellato Due titoli Della PS Vita Allora Siccome io sono L'unico giocatore Di Cave in Italia Senza Come io Vi spiego Che cosa è successo Allora Sei mesi fa La Cave Si era spostata Praticamente La Cave Principalmente Sappiamo Alcuni di voi Tipo Merlino Qui Sa già chi è Cave È una casa Che In primis È specializzata Nello sviluppo Di sparatutto A scorrimento In 2D E praticamente In Giappone Loro sono i re Assoluti Del genere Almeno Tipo Una volta All'anno Almeno In ogni sei mesi Oppure un anno Se ne vengono Sempre con un nuovo gioco Molto bello Innovativo Eccetera Eccetera Per le vendite Delle sala giochi Con conseguente port Su Xbox 360 Perché Dal 2007 in poi La loro piattaforma È stata quella Poi dal 2008 in poi Quando i soldi Sono iniziati un po' A fumare A Praticamente Quando si sono riempiti Un po' di soldi Quando se li potevano Sfregare tra le mani Hanno deciso Oh Perché non rilasciamo Anche i nostri giochi Su un'altra piattaforma Una piattaforma Dove ci giocano tutti Una piattaforma comoda Che si possono portare Tutti a presso Un telefono magari L'iPhone Certo Dal 2008 in poi Hanno rilasciato Almeno 6-7 port Su iPhone Con conseguente port Per 360 Quindi loro sono andati avanti Dal 2008 al 2010 Con questa menterità Tra iPhone E Xbox 360 E andavano forte Con sta cosa Non è che Hanno fatto una scelta sbagliata Però Prima o poi Le conseguenze Di dire Che l'iPhone È il futuro Si vedono Loro cosa hanno fatto In pratica Loro si sono lasciati Un po' andare E hanno rilasciato Giochi di Altri generi Diciamo che si stanno Che si volevano Abbicere anche un po' Ai giochi sociali Infatti Si è visto anche Si è visto anche Un gioco così Per di corsi di cavalli Su Facebook Rilasciato 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 da loro Che ovviamente Non si è incurato nessuno Seguendo questa linea Loro Avevano intenzione Di rilasciare Su vita Un gioco sociale E uno shoot Mappo originale Di conse- Come conseguenza Delle scarse vendite Dovute All'ultimo anno fiscale Perché Ho controllato I loro conti in borsa E stanno Stanno praticamente Sull'orlo del falimento Adesso Più di là Che di qua Sì sì Perché loro Praticamente Vivono Delle vendite Giapponesi Praticamente Loro Se non fanno Shoot'em ups Non sopravvivono Se non fanno Port per 360 Non sopravvivono Se fanno ancora Merda per iPhone Che ti costa 10 euro E giochi sociali Che i quali Non interessa nessuno E non calcolare Che ci sono Programmi Che ti fanno Scaricare app Senza neanche pagarli Sì Sì anche questo Quindi ci vai Sì vabbè Questo è un argomento A parte Però ovviamente Loro Non possono più Sostenere questa situazione Loro in passato Hanno già detto Ci concentreremo Smetteremo di sviluppare Giochi per le salagiochi Smetteremo di fare Shooters E ci concentreremo Sui giochi sociali Questo l'hanno detto A febbraio Poi Verso marzo Aprile Hanno detto Che ci avevano Nuovi progetti In sviluppo Nuovi shootemaps Per le salagiochi E infatti Un mese fa Si è vista Il rilascio Della loro Storica serie Di Dolom Pachi E due giorni fa Viene fuori Questa notizia Che Questo rumoreggiato Gioco sociale Chiamato Shirotsuku Deluxe E uno shootemaps Sconosciuto Probabilmente originale Sono stati cancellati Ma la gente si chiede Ma i fan si stanno chiedendo Why? Primo perché Secondo Esatto Secondo Si stanno dicendo Magari è una speranza Che la cave Torna a concentrarsi Sulla 360 È quello No ma è quello Che mi sono chiesto Anch'io Voglio dire Tu compri La licenza Per sviluppare Su PS Vita No? Si Essendo una console nuova Non costa poco Ora non so quanto costi Ma Costa parecchio Prendi quindi anche I kit di sviluppo Ovviamente Si Cominci a lavorarci sopra No? Perché hai cancellato Il gioco? Cioè davvero Già avevano Avevano avanti Il progetto Doveva essere Praticamente Doveva essere Un gioco Un miscugio Tra gioco sociale E gioco gestoriale Dove praticamente Bisognava appunto Sviluppare aree geografiche Costruire Viaggiare il mondo E connettersi Online Per poter condividere Le proprie città Eccetera Eccetera Ovviamente A questo non interessava A nessuno Alla gente Interessava Lo shoot map originale Però loro ovviamente L'hanno cancellato Ma nella loro Ultima intervista Hanno detto Che praticamente La compagnia È in sfaldo In questo momento Perché non solo Hanno cancellato I giochi per PS Vita Ma lo stesso giorno Lo stesso giorno Aspettate che controllo Un attimo Lo stesso giorno Miko Watanabe Che praticamente Era il direttore rappresentativo Vicepresidente E capo operatore Si è ritirato da Cave Per ragioni personali Lo stesso giorno Che i giochi Sono stati cancellati E allora Quindi loro Succede che Praticamente C'è la possibilità Che questo Era un tizio Che a lui Fregava soltanto Di giochi sociali Eccetera Eccetera Probabilmente Era un tizio Che qua Lì dei shoot map Non gli fregava niente Quindi magari Potrebbe essere un bene Che sia andato Però cosa succede? Che mo A sostenere I loro sviluppi Per giochi sociali Per PS Vita E altre applicazioni Che non siano 360 Chi cazzo Li sostiene? Chi cazzo Li dà Quei soldi aggiuntivi Che quelli Fatti per Che quelli usati Per creare I port per 360 I giochi arcade Non bastano? Ma cioè Sì però Come mosse È comunque È stata una follia Sì Perché tu Io personalmente Considero sia stato un bene Perché la PS Vita Non sta facendo Non con me Non cazzo Magari non avrebbero Venduto tanto Forse avrebbero addirittura Fatto fatica Rientrare nei costi Sì Però così non ci rientri Di sicuro Già stanno facendo fatica Rientrare nei costi Già loro Il mese prossimo Se non fanno qualcosa Sono rovinati Completamente Vuoi dire no Già così comunque Non ci rientri di sicuro Nei costi Va bene In Giappone ci sono tipo 600.000 PS Vita Però Magari Un suo vaccino Ce l'avrebbe avuto La PS Vita Io lo ripeto Ce lo dico sempre È uscita troppo presto Troppo A mio parere È uscita troppo presto Sì è vero Ma che è uscita presto Tari anche Si vede che le vendite Scarseggiano Ma il problema Perché cazzo Scarseggiano Perché costano Un bordello di soldi E non ci sono giochi E non ci sono giochi Giochi che vengono cancellati Comunque Le loro prossime mosse Dopo queste Dopo queste cancellazioni Non si sanno E probabilmente Su PS Vita Non ci torneranno neanche Io prevedo Che Poverini Se non combinano qualcosa Finiscono Finiscono davvero male Poi PS Vita Se vogliono fare un port Tra l'altro Giravano Giravano voci A febbraio O sapete Stanno per rilasciare il port Di un loro gioco Per PS Vita Eccetera eccetera Comoraggiata Vanno a intervistare Ma che cazzo State sparando qua Noi non stiamo Sviluppando niente Per PS Vita Ma il problema Che c'è PS Vita Non so neanche Descrivere Quanto nella merda È Ok Adesso è in merda Più della PS Vita Quindi Diciamo che vanno A braccetto insieme Nella cacca Sì sì E vabbè Andata così Due giochi cancellati Eh ma Secondo me è stata una Ripeto di nuovo Che è stata una mossa Foglia Ma i giochi Non si cancellano Non puoi dire Non puoi fare un festival Della PS Vita Un altro E mi vai a cancellare Due giochi I giorni prima Sono giochi Che comunque Non sarebbero interessati A molti Cave Mira sempre Alla nicchia Ai giocatori Che si intendono Del genere Non è casuali Sì ma Anche mo Che non ci sono Giochi per PS Vita A provarli Magari gli piace Fanno un bel voto Purtroppo è quello È l'errore Che Cave Non si interessa Al pubblico maggiore Quindi Le conseguenze Le stanno vedendo adesso Se in qualche modo Non si avvicinano Al pubblico maggiore In un modo Che non sia Giochi sociali Potrebbero avere Qualche speranza Vabbè Passiamo avanti Dai Passiamo avanti Sì che vi ha cancellato Tutti i tre Per la sua vita Devil's Third Non so se vi ricordate Il gioco del nuovo studio Di Itagaki Un bell'uomo Che Vabbè Lasciamo stare Il bell'uomo che è Comunque vi consiglio Di andarlo a vedere È un bell'uomo Affascinante Avrei 60 anni Ma si avresti come un 17 Comunque Sì Devil's Third È a rischio Perché THQ Sembra Abbia detto Ciccia Io il gioco Non te lo pubblico più Qui persiste lo stesso problema Del quale sta soffrendo Cave in qualche modo Perché L'anno fiscale Di THQ Purtroppo Non sta un anno Tanto bene Cioè Negli ultimi cinque Trimestri Hanno fatto tipo Hanno fatto tipo Un'utilità del 25% Rispetto Rispetto all'anno prima Per forse Quindi loro Quindi loro Loro si prendono Le misure di sicurezza E piuttosto che Lavorare a un titolo Del quale non sono sicuri Come Devil's Third Si mettono a lavorare A che so A Darksiders O ad altra roba Ma è Il problema di Tagaki Adesso è che Nessuno glielo può A quel titolo Cioè L'esserea deve fare una ragione O se lo pubblica da solo Anche perché Ma fa il team ninja A due Che cazzo combina No ma C'è già Il Valallo Studios Suoi Ma no Non so se loro Adesso hanno la forza Economica di pubblicarsi Mi ti trovo solo Più che altro Il fatto che THQ Non gli ha Dato fiducia Quindi Ma Ah Ci mancano Sai com'è Ci mancano i soldi Mi dispiace Il tuo gioco Se ne va a puttane Ma è Cioè Il problema è che È un gioco Che non Non attira Il pubblico Maggiore No Cioè Può fare un milione Su entrambe le piattaforme Un milione di qua Un milione di là Forse ci arriva Però Però poi finisce lì Anche perché Mi pare di aver capito Che loro lavoravano Su un motore Non loro Non proprietario Sì E chi gli aveva venduto Quel motore È fallito Quindi adesso Non posso neanche più Adesso non so Di quanto tempo Fai questa notizia Dovrebbero rifarlo Da zero Ma Eh A voi il titolo Interessava Avete Ma Personalmente È la prima volta Perché i tagaki Dopo che siete ritirati Da Team Ninja Non me lo sono manco Più inculato Ma per forza Non ho più detto nulla Vabbè Si poteva Si pronunciava Un gioco Che avrebbe Diciamo Spaccato un po' Mi fanno ste cose Ma perché console era? Scusate Di tutto un po' PS Vita? Sì Sempre Ah PS3 360 Ah vabbè Tanto non sarebbe cambiato Comunque perché 360 morta in Giappone PS3 con le pezze al culo Ah ma dai Un milione Un milione su entrambe Certo li facevi Alla fine Cioè Ritorniamo a questo fatto Che fate i giochi Li annunciate Fate feste Cioè E li cancellate Che scopo? Ma qui loro non ci possono fare nulla Nel senso Loro i giocatori Lo stanno facendo Però non lo vogliono più Perché A questo punto Io vado a preferire la Lion A meno mi porta i giochi completi Ma THQ probabilmente A parte che lo sviluppo Mi sembra sia Già da due anni Che Se mi fate trovare Soprattutto pure Per la TKHU Che cazzo Purtroppo va così Qualcuno gli ha dato THQ mi ricordo Gli aveva dato tipo Tre mesi di vita Adesso Vediamo Alla PS Vita? No Alla THQ Ah Adesso ho capito Adesso ho capito Tre mesi di vita Un trimestre La dice lunga comunque La dice molto lunga Non stanno messi bene neanche loro Eh purtroppo Itagaki ormai Pezza al culo Per il personaggio che sei Però Pezza al culo Pezza al culo Pezza al culo Insieme ragazzi Uno due tre Pezza al culo Eh vabbè Va così eh Non è che ci possiamo fare qualcosa Ma d'altra parte anche Quando ero in Team Ninja Non è che poi Non abbia mai fatto Sopracelli di vendita Assoluto E beh Insomma Di nuovo La dice lunga Va bene Qualcos'altro da aggiungere Su Itagaki Da Vister È che sto vedendo Sto adesso vedendo Il video di questo gioco Ma A parte adesso Una gran tamarrata A me piace Già vedere il video Ci sono rimasto male adesso No ma il gioco Il gioco è bello È carino va Cioè è una tamarrata pazzesca Tipica giapponese Nulla Vabbè dai Itagaki Non ti puoi aspettare Null Cioè mi fate queste cose Cioè È bruttissimo Ma guarda lì C'è che camminano e sparano Che camminano C'è che camminano sui muri E sparano Ma che cazzo è tamarrata Alla fine probabilmente Andrà sotto iade E beh va così eh Va così Vedrai che alla fine EA o Svegliatevi ragazzi O Epic Magari qualcuno Se lo piglia Sto gioco EA salverà il mondo EA lo comprerà Il mondo EA salverà il mondo Garantito Lo comprerà E lo farà E lo farà E lo farà pallire Probabilmente si Dunque 343 Industries Vabbè Ormai è andata Comandata Quindi Fanculo I 343 Industries Hanno Gli sviluppatori Diciamo che sono Al lavoro su Halo 4 Whippy Zeus Esatto Hanno annunciato Che La nuova trilogia di Halo Che stanno facendo Durerà dieci anni E a me è scappato Quando ho detto Che culo Quindi ragazzi Per i prossimi altri dieci anni Avremo Halo Non siete contenti Oh mio dio Sono contenti Io tra dieci anni Manco so Tra dieci anni Manco so Se ci sono ancora Ho le lacrime Gli occhi della felicità Però vi giuro Passerò questi dieci anni Sapendo che Un altro Halo Uscì da fuori Thank you Based God Appena l'ho letto Grazie Sono andato In chiesa A ringraziare il nostro signore Per aver citato Questa possibilità Di giocare ancora a Halo Per altri dieci anni Che il mio esercito Di scoiattoli Stitici E famelici Vengano Io avevo il cazzo rotto Dopo Halo 3 Figurati adesso Che nel tempo Sono usciti Odst Halo Wars Halo Ricchio E Anniverse Allora Halo Ricchio Halo Ricchio Questo è bellissimo Ce la segniamo Dunque Halo 4 Ormai È praticamente confermato Tra dieci anni Ragazzi Mettetelo sulle vostre agende Che tra dieci anni Esce Halo 4 O Halo Halo 4 Esce il 6 novembre Di quest'anno Quindi tra due anni Escirà il prossimo E dopo Si prenderanno un po' di tempo Per andare impacando Sì dai Faranno un Halo Con Kinect Dove Tu devi Lanciare la granata Alle bambine Che giocano Chiunque Osa a toccare Questo gioco sacro Che non sia Un uomo Minuscolosi Ventenni Cioè praticamente Halo No fun allowed Halo ha rotto il cazzo Ha rotto il cazzo Anche a loro Anche loro lo sanno Lui stanno facendo il gioco Ma io mi sono rotto il cazzo Però lo fanno lo stesso Perché li pagano Ragazzi Oggi non c'ho voglia Tra un cazzo Facciamo Continuiamo Facciamo un halo Facciamo un halo Facciamo un halo Tra un po' Tra un po' Vedrai Che le danno Con le patatine Nella san carlo Nella confezione C'è un piccolo halo Che puoi usare Per giocare Halo da portare a casa E da mettere Nel tuo Nintendo Te lo parlo per Nintendo Pokemon C'è nel Pokemon Di Halo Non stoccare i Pokemon C'è tra i Pokemon Pokemon che adesso A fare una critica personale Una volta erano 150 Adesso sono tipo 6800 Grazie anche a Game Freak A me non interessa Perché i Pokemon Sono belli tutti e 600 Ragazzi Non ascoltate le cose Che dicono Hanno rotto il cazzo Anche loro Il mio è ancora intero Continuate Ne voglio altri 150 Altri 20.000 Uno più cazzuto dell'altro Basta Pokemon Game Freak Ascolta questo mio grido Questo mio urlo Fanne ancora Ne voglio ancora Ne voglio ancora Oh boy Dunque Andiamo avanti Con un'altra notizia allegra E vada a passi Digimon E Last Guardian Sarà probabilmente Assente Alle tre Ma che sorpresa Un altro gioco Nuovo Sì Alle tre Adesso presenteranno Una mostra per cani Finiscono i giochi Se non li presentate Tra l'altro Una mostra per cani Una mostra per cani Per il Kinect Sì Cioè Tu c'hai Cioè già si sapeva Che avrebbe Fini di camminare In questo canino Dove sopprimono i cani Il nuovo gioco Del team Weda Del team Ico Ormai Perché il team Weda È senza Weda Perché l'hanno licenziato La Nintendo È finita È finita Senza Weda Quella casa lì Dove vuoi andare La Nintendo Adesso No la Nintendo All'E3 Adesso si porterà Sicuramente Giulia Passione Stuprare un cane Giulia Passione Allevare questo piccolo Weda E farlo diventare Un grande Weda Un grande Weda Un grande Weda La Guardian È in sviluppo anche lui Solo dal 2005 Credo Quindi insomma È un gioco fresco Solo eh Non dal 2005 Dal 2006 Quindi insomma È ancora una primizia Anche qui È successo Esattamente come Final Fantasy Versus Solo che qui Si è visto ancora meno Se non è Esattamente come Final Fantasy Versus Tipo l'anno scorso Si sono accorti Che non sapevano più Dove mettere le mani E hanno licenziato Però Nomura Non lo licenzino Perché Nomura È un coglione Però hanno licenziato No se se ne vanno Nomura Non hanno le pezze Hanno le tovaglie Al culo Dopo la Nintendo No hanno licenziato Hanno licenziato Weda Che è Purtroppo È uno delle più grandi menti Della storia dei videogiochi Probabilmente Però Bravi Questo non lo sapevo Comunque bravi No stavolta Hanno fatto bene Perché ha pestato la meta Poi Hanno messo I Santa Monica Cioè quelli che Sviluppano God of War Ad aiutare Il Timico E quindi adesso Probabilmente Tra tre anni Cinque anni Quello che è Il gioco sarà pronto E sarà una merda Perché C'è più Weda E ci sono quelli Che hanno fatto God of War Applausi Per favore Detto questo Voi lo aspettate Giocate a big Vi piattizzate Detto questo Vaffanculo A Sony No Che non l'ha sostenuto Sony ha fatto bene A Sony no Lasciatemi stare Da Sony Gli ha andato Se ne può andare A fanculo Gli ha andato Tanti di quei soldi Vabbè in generale Sony può andare A fanculo Però gli ha andato Tanti di quei soldi Porca puttana Lui in sei anni Non gli ha fatto Neanche un videogameplay Non è riuscito a presentare Uno Almeno in versus Delle robe Le hanno portate Quindi non sono riusciti A fare neanche Raggiungere il livello Diverso Mi fa ridere la cosa Proprio a me Davvero Voi vi lamentate Della Sony Bravi Intanto guardate L'Xbox Che cazzo ha fatto La No No Sony questa volta Lui in sei anni Non è riuscito A presentare Un qualcosa Dimostrabile Non ce l'ha fatta Che cazzo Non è il tuo lavoro Devi lavorare Con un team Ti butta sopra L'Xbox 360 Minecraft Eh A proposito di Minecraft A proposito di Minecraft Il Minecraft Per Xbox 360 Minecraft Gran stronzata Ragazzi A parte che finalmente Potrete Finalmente potrete Giocare a Minecraft Senza un lag Finalmente non lagherite Manco un po' Quando giochete a Minecraft Per quelli che lo facevano Dopo tre passi Andrete contro un muro Invisibile Perché la versione 360 È Leggermente Castrata Ma leggermente Leggermente No no Leggermente Non puoi Vai contro un muro invisibile Funziona di merda Però leggermente In questo Grazie a questo Leggermente Castrata Ha venduto Un milione Di copie Allora Vedete che c'è L'ingiustizia Sono le ingiustizie Vedete Non vedo nessuna Ingiustizia In un gioco Che è rivoluzionario Onestamente Secondo me È un ottimo Allora Perché Minecraft È un gioco bellissimo Ve lo dovevate aspettare Un milione Di vendite Gira Gira su qualunque PC Anche un PC Del 98 Gira lo stesso Sì Questa è una cosa Bellissima Però Vedete Come ha detto Mellino Questo problema Di sto gioco Che fa questi problemi Nonostante questi problemi Ha comunque venduto Un milione di copie In cinque giorni Di per sé Il gioco L'imerita Il gioco Di per sé L'imerita È che cazzo È un po' Una versione È Minecraft Vado di Minecraft Non di C'è Minecraft Cazzo È Minecraft È di per sé Di per sé Di con C'è I miei complimenti Veramente a Notch Che No Cioè Voglio dire Loro hanno fatto un gioco Se non era ricco Prima Adesso Guarda Adesso È già nello spazio Loro hanno fatto un gioco D'applausi Però dopo Però C'è su 360 Oggettivamente È una merda Tu non me puoi Cioè Non me ne puoi comprare Su 360 Visto appunto Che Che su pc A parte Gli aggiornamenti che hai Cazzo È anche sei anni più avanti E giro su qualunque pc Su qualunque pc E c'è le mod E c'è i server privati E c'è questo E c'è quello E lì la questione Vedi Non è Di un gioco Che per giocarci Deve avere Un pc da gioco Basta che hai un pc E ti funziona E funziona Se il pc Diventa L'esperienza Completa Sì No Ma c'è La cosa Però Però E che No C'è no Sta facendo Sta migliorando Molto Minecraft Si potrebbe migliorare Ad esempio Mettere una Una storia Mettere che so I mobili Ragazzi I mobili No Mette gatti Mette Mette giungle Vabbè che la giungla è una Sono scelte comunque Importanti Cioè Nessuna scelta È rotta O Nessuna scelta È messa lì a caso Io credo che No C'è già l'idea Di come sia Minecraft Tipo 2.0 3.0 Quindi Sta lentamente Ma lentamente Ma lentamente Perché lentamente Alla fine Per lasciare No Bisogna fare un applauso Perché con un gioco Java Cioè sta facendo I milioni Li ha già fatti No ma tu devi fare il conto Comunque lui ha fatto Veramente una grandissima cosa Perché anche il Minecraft Quello vecchio Dove non c'era praticamente nulla Era un giocone di suo Poi dopo loro Si A forza di aggiornamenti Adesso l'hanno ancora Migliorato Però per esempio Il Minecraft mi pare 1.36 Una roba così Quello no Com'è che si chiama Quello dove hanno messo La possibilità di fare i circuiti Qual è Il 60 Che cazzo ne so Vabbè La 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 Tecnic La Tecnic 1.6 Tipo Si voglio dire Quello vecchio Comunque lì Sono state giunte Moltissime cose da allora Però già allora Era un gran gioco Si Quindi voglio dire Loro stanno continuando A migliorare Senza sbagliare Un gran gioco D'applausi Si Loro praticamente Secondo Come ho detto prima L'idea del gioco completo Ce l'ha Ma lo aggiunge Lo completa poco Per volta Per Soffrire Bastare No per mantenere Appunto L'utenza Per mantenere L'utenza Anche perché Tu Cioè voglio dire Una volta che l'hai comprato Dopo Hai tutti gli aggiornamenti Quindi non è che Ti li vende come DLC Allora si che sarebbe Bastare Si Se il gioco fosse Sotto Capcom Ci sarebbe un dia Del giro a settimana Mamma mia No Capcom Non mi nominate Capcom Manco stasera Vaffanculo Mi rovinate l'umore Se mi nominate Capcom A me Davvero Perché No lasciamo stare Ma povera Dunque Un applauso Un applauso a Notch E compagnia E Mojang E Voi avete qualcos'altro Che volete dire Sì Sì Soprattutto grassone Bastardo Notch Sei un ricco di merda Così ricco Che Ti stimiamo Ma ti schifiamo Esattamente come Gabe Non me ne fotte un cazzo Di Minecraft Ma Rispetto a Notch Esattamente come Gabe Ciccione Che mangia E che fa le cose lentamente Facci caso Che c'hai soldi Che non rilascia un cazzo In vita sua Però rispetto anche a me Deve essere un parallelismo Deve essere un parallelismo E lo vorrei come vicino Lo vorrei come vicino di casa Che Gabe Così Vedi Il furgone che porta i vivi Ogni mattina Sì sì Mi vado Ma me ne fotto qualcuno Cioè Poi tu vai a bussare No scusa C'hai un po' di sale Ma a Gabe Non a Notch Notch Non mi aveva fatto un cazzo Quello è un hipster di merda Non ho capito un cazzo Sto zitto Non parlo più Quello di va Ricordiamo Tra l'altro Valve ha detto Che non sarà presente All'E3 Grazie Un'altra sorpresona Che non mi aspettavo Dai Stupendo L'altra cosa Va Sei anni Stupendo Ok dai Questo Credo che abbiamo concluso Abbiamo concluso Sì Io ho parlato abbastanza Ciao ciao Stronzi Guardateci Iscrivetevi al canale Fate condividete il video Anzi Sto cazzo che è bellissimo Non lo sto dicendo Perché Mi hanno minacciato Di buttarmi fuori dal podcast No eh Cioè Siamo brava persone Siamo brava persone Non mi hanno messo Un cricetto sulla spalla Con una testola in mano Non l'hanno fatto Ho pensato nel culo No non l'hanno fatto Va bene amici Grazie per averci sentito Ci vediamo Probabilmente dopo le tre Credo Perché Sè 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 Quando hai postato questo video Allora Domani Ciao a tutti Domani